in diretta da buenos aires quartiere palermo il bellissimo giardino giapponese è possibile lasciare un ricordo che stiamo facendo adesso con questi origami c'è forma di gatto di ragazza giapponese si può lasciare una traccia della propria presenza con un messaggino cosa molto simpatica e poi si appende il tutto qui eccoci troviamo spazio troviamo spazio vediamo dove c'è questa sorta di bacheca avrei presento il gattino ma erano finiti i gattini la gattara d'angioviaticus non ha trovato il gatto per la prima volta c'è la parola ok ecco fatto l'angioviaticus è stato qui l'angioviaticus è presente lasciamo l'operazione intanto diamo un'occhiata tutto il resto bellissimo giardino giapponese da non perdere eccolo qui qual è lo indichiamo eccolo qui ci siamo anche noi l'angioviaticus li saluta da buenos aires